Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, una giornata interessante in cui l'unico ostacolo è rappresentato dalla vostra inflessibilità, che rende espigolosi i rapporti con le persone vicine. Toro, la luna in bilancia mette in evidenza il lavoro, anche quello casalingo. Sarà una giornata impegnativa in cui però potete ottenere anche dei buoni risultati. Gemelli, arriva una giornata fortunata e rilassante, proprio quello che ci vuole dopo un periodo di super lavoro, giornata bellissima per l'amore. Cancro, la luna rende più facile il dialogo in famiglia, ma l'amore sembra andare in netta difficoltà, perché manca un po' di originalità nella coppia. Leone, le nuove storie d'amore possono risultare subito molto positive. Venere, sempre generosa, insieme alla luna favorisce gli incontri. Vergine, non pensate solo ai soldi, al lavoro cercate di godervi la vita, anche spendendo qualcosa in più per concedervi quei piccoli lussi che vi piacciono tanto. Bilancia, l'amore è in cima alla lista delle cose importanti. Venere e luna vi aiutano ad allacciare nuove storie, nel caso siate ancora soli. Bella anche la vita familiare. Scorpione, la luna in bilancia favorisce l'amore. Finalmente vi sentite liberi di vivere un sogno, anche se non siete soddisfatti di come si sviluppano certi rapporti. Sagittario, staccate la spina e dedicatevi all'amore. La luna in posizione positiva stimola la vostra sfera sentimentale. Potete recuperare il terreno perduto. Capricorno, evitate gli spostamenti in questo martedì in cui la cattiva posizione della luna può riservarvi qualche imprevisto. In serata, meglio rimanere in famiglia. Acquario, una giornata con molti pianeti favorevoli. L'amore sembra volervi regalare tutto quello che vi è stato negato fino a dura. Potete prendere decisioni importanti. Pesci, la luna apre la vostra mente e vi consente di essere più razionali nel giudicare un rapporto affettivo. Continuate a soffrire la pressione di Venere, quindi sarà bene capire quali siano i reali sentimenti in gioco. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.